Il Covid porta via anche Pasquale Castellano, stimato dipendente comunale del Comune di Torre del Greco. Siamo qui agli uffici ai Molini Marzoli per ricordarlo insieme ai colleghi di una vita. Ricordare Pasquale Castellano è come riavvolgere un po' il nastro della mia vita, nel senso che io da ragazzino venni per un problema d'ufficio e Pasquale già all'epoca era un valido impiegato. E da allora c'è stata sempre una stima tra di noi, anche perché poi è continuata con gli anni in ufficio, entrambi eravamo dello Stato civile e Pasquale per me è stato un punto di riferimento agli inizi. Lui mi rispettava e io rispettavo lui, perché sapevo che era una persona preparata, una persona che si metteva a disposizione degli altri, io penso sfido chiunque, attore del greco, che non abbia ricevuto qualche cosa da Pasquale Castellano. È una persona sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri, a risolvere i problemi, perché ricordatevi che il problema è questo. L'impiegato si differisce da un altro, perché mentre uno crea il problema, un altro lo risolve. Pasquale risolveva i problemi. Pasquale era una persona semplice, umile, sempre disponibile con gli altri. Era una persona unica e mi emoziono perché abbiamo lavorato 30 anni. Io sono arrivato allo Stato civile nel 90 e fino a due anni fa abbiamo lavorato gomito a gomito. Peppe è un figlio di Pasquale, nel senso che Pasquale lo ha aiutato tanto e lui ora è un degno erede di Pasquale. Perciò tutto quello che faccio, che ho imparato, lo devo ringraziare a lui. Ancora oggi sembra assurdo, impossibile, perché Pasquale Castellano, che non c'è più, è diventato una specie di dolore sottile. Pasquale Castellano, prima ancora di essere impiegato, adoperava la tecnica e il riassunto del cittadino per capire qual era effettivamente la problematica da affrontare. Era una persona molto semplice, di un'umiltà eccezionale e contemporaneamente forse faceva proprio questo avvicinare di più. Alla base di tutto c'era la sensibilità di creare uno stato di conoscenza, ma non come fatto a livello così semplicistico. Conoscenza per approfondire a che cosa significava, a che cosa serviva quel tipo di certificazione e quant'altro. Questo ovviamente lo applica quasi sempre l'impiegato che ama il suo lavoro, non certamente perché lo deve fare, perché è forzato da un qualcuno. La Pasquale Castellano resta nei nostri cuori, per sempre. Grazie.